A Lecce già da 2012 è stata istituzionalizzata una rete oncologica leccese che è partita dai punti cardini, la definizione dei gruppi multidisciplinari, i gruppi di patologia, che per ogni patologia neoplastica definiscono dei PDTA, dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per garantire una cura adeguata ai nostri pazienti. Questi PDTA devono essere redatti secondo delle linee guida, le linee guida che vengono adottate sono quelli dell'IOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Questo discorso sarà sicuramente riaffrontato in ambito regionale perché ci sono diverse competenze oncologi di alta elevatura professionale che sicuramente si sederanno in un tavolo tecnico per applicare a livello regionale questo progetto pilota. Nell'ambito del PDTA credo che sia arrivata l'ora anche di definire un PDTA per la cura dei pazienti oncologici anziani, per la cura dei quali è necessaria una valutazione particolare con gli strumenti di screening che definiscano in pochi minuti la distinzione tra un paziente fragile che ha bisogno soltanto di una terapia di supporto e invece pazienti anziani fit che possono essere trattati come i pazienti giovani. Quindi c'è tanto lavoro da fare, credo che ci sia il tempo, la volontà e le competenze per raggiungere i nostri obiettivi.